Sono attese almeno 15.000 persone domani per un evento che non riguarda solo e soltanto la comunità dei fedeli abruzzesi e i devoti, ma tutti i cattolici. La consacrazione del nuovo santuario di San Gabriele della Dolorata d'Isola del Gran Sasso, a conclusione di 40 anni di lavori, sarà seguita in diretta su questa emittente TV6 e su Tele Molise, a partire dalle 9.30 con la telecronaca di Alfredo Giovannozzi, che accompagnerà i tanti, tantissimi che non potranno essere presenti nel santuario di Isola del Gran Sasso fino alle ore 13. Alle 10 inizierà la Santa Messa preseduta dal Cardinale Ennio Antonelli, già arcivescovo di Firenze e presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Famiglia, inviato speciale di Papa Francesco, che per l'occasione ha anche scritto una lettera destinata a tutti i fedeli. Alla celebrazione parteciperanno anche il Vescovo della Diocesi di Teramoatri, Monsignor Michele Seccia, il Superiore dei Passionisti, Ordine Custode del Santuario di San Gabriele, Padre Joachim Rego, il Vescovo di Sangau in Indonesia, Monsignor Giulio Mencuccini, il Consiglio Generale dei Passionisti e le Autorità Civili e Militari, con in testa il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Nel corso della Messa il Cardinale Antonelli utilizzerà il nuovo e prezioso calice realizzato ed offerto da una ditta di macerata e benedetto da Papa Francesco durante l'udienza generale del 17 settembre scorso. Inoltre sarà inaugurata una acquasantiera progettata dall'artista Mimmo Paladino. Il Santuario Teramano di San Gabriele della Dolorata è uno dei più grandi d'Europa, ben 20 volte più grande della prima basilica. Lunga 90 metri e alta 30, compianta a croce greca, può ospitare nelle navate 5.000 persone, complessivamente 10.000, ed è stata realizzata in cemento bianco, vetro, policarbonato, alluminio ed acciaio. Nonostante le dimensioni gigantesche della nuova chiesa, essa non sarà sufficiente a contenere tutti i fedeli che vorranno salire sulle cime del Gran Sasso domenica. Per loro ci sarà comunque la possibilità di seguire la celebrazione eucaristica attraverso dei maxischermi che ripeteranno le immagini registrate dalla nostra emittente all'interno della chiesa e diffuse poi nelle case abruzzesi e molisane e in streaming su internet sul sito www.tv6.it.